di avere questa sera con noi, in questo centro per le famiglie e per i ragazzi della comune di Bari, qui nel quartiere Santa Rita, la squadra primavera del FC Bari Calcio 1908. Questo momento è molto particolare perché apre una serie di iniziative che si svolgeranno fino a tutto novembre, fino al 23 novembre, dedicate ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Io penso che questa è un'occasione rara perché non è che si presenti ogni giorno, però devo ringraziare coloro i quali si adoperano per voi, tenendo presente e impegnati soprattutto i ragazzini che hanno bisogno di essere seguiti e di essere soprattutto galvanizzati da qualche cosa di particolare. Vediamo anche un attimino se riusciamo a fare un pomeriggio con la presenza di tutti i ragazzini di questo quartiere allo stadio, gratis, per vedere una partita del Bari. Tu per chi fa il tifo? Il Bari. C'è qualcuno che fa il tifo per qualche altra strada? No, no, no. Io ne vittoro. Bravo, bravo. Vieni qua, vieni qua. Questa veramente è la voce della verità, è la voce della verità perché ha detto che lui fa il tifo per il Bari e per l'Italia e questo vogliamo sentire a tutti quanti voi. Mi raccomando, tifate da questo momento la squadra del cuore deve essere la Bari, poi tutto il resto potete anche avere delle simpatie, ma la squadra del cuore deve essere la Bari. Bravo, veramente bravo.